Buongiorno, benvenuti o bentornati in un nuovo daily vlog di oggi. I tatuaggi iniziano a prudermi perché si stanno formando le crosticine, infatti non ci sono più le bolle d'acqua e nulla. Però sapete quella sensazione quando vi viene proprio da tirarvi via la carne, ecco, infatti sto continuando a fare di questo. Però vi faccio vedere anche visivamente com'è l'update, vedete ancora ci sono le parti rosse. Detto ciò, ieri appunto alla fine tra una cosa e l'altra sono andata a dormire alle 5 addirittura. Mi sono svegliata alle 9, anzi alle 8 e 40, ho fatto colazione, mi sono lavata eccetera, mi dovevo un attimo vestire. Perché adesso devo accompagnare Francesca alla metro, come vi ho detto ieri lascia la macchina, poi deve prendere il treno. Quindi vi ho detto guarda ti devo proprio volere tanto bene per fare una cosa del genere. Comunque alla fine ieri sono riuscita a prendere i biglietti, anche perché sono andati sold out tutti un'altra volta. In realtà io non so come organizzino questi siti per la vendita dei biglietti, nel senso non ti danno neanche l'occasione di fare questo pre-sale generale, ma solo chi riceve questo codice può accedere, è un casino. Comunque sono riuscita e li ho presi appunto alla mia amica, quindi sono molto contenta di questa cosa. Li ho preso addirittura due giorni, non uno, ma due giorni. Soffro tantissimo, perché soffro tantissimo a sapere che i biglietti sono lì, ma non sono per me. Detto ciò, by the way, oggi è la grande giornata di vendita scarpe a proposito su Vinted. Dopo che porto Francesca, devo portare il pacchettino di Vinted a proposito che è lì. E poi torno a casa, metto a montare il video, metto le scarpe in vendita. Ok, pacchetto consegnato. Allora, sono venuta al mio solito pacchetto, perché devo un attimo schiarirmi l'idea prima di fare qualche cosa di cui potrei pentirmi, probabilmente. Credo dopo si annuvolerà un pochino, ho detto ne approfitto, mi faccio due passi. Ok, ho appena finito di mettere tutte le scarpe, quindi se vi interessa, insomma, andate a vedere un pochino. La mia madre fa se l'aspirapolvere. Tra l'altro mi è arrivato anche questo, ho preso da Amazon per metterlo sul telefono, perché praticamente ne ho messa una. Ce l'avevo nel cassetto, ma secondo me tiene tipo le impronte, non lo so, è strana. Che in teoria ha anche questa, che tra l'altro è quella da mettere proprio sulla telecamerina. Allora, proviamo a mettere questa prima. La vola bene. Praticamente lascia più per il pannetto che quelli che c'erano prima, ma ok. Questo qui è il Dusk Remover Sticker. Ovviamente voi lo prendete e fate così. Quindi cattura tutti i pellecchietti. Ah no, è tutto l'aggeggio. Ok. È così gigante? Credo sia così e basta. Non so quanto sono convinta. Cioè, voglio vedere col flash se mi viene il riverbero. No, in teoria non viene nessun riverbero. Poi togliamo questa. Pellicolina che poi tra l'altro è tipo, vedete, è scura. Non è chiara come quella di prima. Cerchiamo di centrare il tutto. Messa. Però è stranissima perché io vedo anche il telefono che è più scuro. Mi è arrivato un pacco a sorpresa da Lidl. Esattamente da Lidl. Quindi adesso lo apriamo. Qua intanto stavo settando tutto per registrare anche il TikTok. Io non ho la più pallida idea di cosa ci sia dentro. Guardate la scatola, che carina! C'è la busta con scritto apri adesso. Ciao Ilaria, nella giornata dedicata a tutte le donne vogliamo farti sapere che per noi sei speciale. Abbiamo inserito in una box anche tre lettere speciali che contengono dei pensieri che possono esserti d'aiuto quando hai bisogno di un consiglio. Anche perché è vero, tra un po' è la festa delle donne. E all'interno troviamo i prodotti di Sian, che ovviamente vengono rivenduti da Lidl. Quindi dischetti. Ci sono delle maschere. Crema viso. Questo qui è un setting spray per il make-up. Ovviamente salviette struccanti. Poi c'è questo che è super carino. È un cestino con diverse spazzole, il rullo, il pettine, shampoo e il gel doccia. Altre salviette struccanti, tre ciprie compatte, fondo tinta liquido, correttore, qui c'è anche un mascara e due rossetti liquidi. Avete visto tutto il contenuto della box? Alla fine c'erano tutte queste cosine tra skin care, prodotti da bagno, make-up... E qui ho finito anche di registrare il mio TikTok. Sono appena tornata da palestra e in realtà sono quasi le sette però devo assolutamente fare la mia merendina perché non posso saltare i miei cinque pasti. Adesso sto un attimo ripulando il computer perché se ogni volta che utilizzo Final Cut non rimuovo tipo i file salvati, praticamente mi va in palla il computer. Ecco la merenda post-workout, wasa, yogurt e marmellata di fichi. Ho cenato super velocissimamente, anche perché appunto stasera c'è la finale Master Shop, quindi sì, devo ancora farmi la doccia tra l'altro. Sono stata adesso a stampare tutti i fogli sempre per Vinted, cioè stavolta non sapete quanti sono una morea, tra cui le scarpe anche che hanno acquistato, insomma un altro po' di cose. Quindi adesso impacchetto tutto, poi scendo. Siamo pronti, amici? Anche la nanaschie. Chi vince secondo te? Cosa dica di Maria? Oppure... No, Cristian? Può essere. No, no, Tracy. No, io tipo Carmine ovviamente. Pure Giorgia diceva Carmine. Però non so se vince, non sono molto sicura. Secondo me fanno vincere Tracy. Ecccio, anche tu? È raffreddata? E quindi ci siamo. Eccoli qua. E niente ragazzi, anche oggi abbiamo fatto l'una. Cioè, per Ilaria è impossibile avere un orario normale. Soprattutto di dormita. Sì, devo ancora farmi la doccia. Ho visto la finale, non mi faccio spoiler di nessun tipo ovviamente perché so che non tutti insomma lo vedono in tempo reale. Insomma avremo modo magari di commentare più avanti. Vi dico solo, proprio discorso generalissimo delle puntate. Che non mi hanno entusiasmata, proprio a livello di puntate. Le altre volte mi sentivo più coinvolta. Comunque detto ciò, oggi è stata una giornata infinita. Non so come è sembrata a voi, ma per me proprio mi sono sembrate sei giornate in una. Detto ciò, ci sentiamo ovviamente domani. Io vi mando un bacio. Grazie per essere stati con me anche oggi. A domani. Ciao.